Si è svolto a Roma il convegno Oncostories, un incontro fra medici e pazienti oncologici per sottolineare l'importanza della comunicazione medico-paziente all'interno di un percorso di malattia. E la comunicazione di cui si parla non è solo quella relativa alla diagnosi o alla terapia, ma un dialogo continuo in cui dubbi, paure, ansie e preoccupazioni del paziente possano essere ascoltate e comprese dall'equipe di medici che lo seguono in tutto il suo percorso di cura. Molto spesso il pudore impedisce al malato di parlare del dolore, degli effetti collaterali delle terapie e allora deve essere il medico, dopo aver seguito dei corsi di formazione dedicati ad interagire con il paziente, perché curare non significa solo fare accertamenti clinici e impostare una terapia, ma anche andare incontro ai bisogni di chi affronta una patologia grave come il cancro ed ascoltare la percezione che lui ha della malattia, scegliere insieme il percorso terapeutico, fermarsi laddove sia troppo gravoso il disagio delle cure, cambiare strategia o modalità di cura a seconda del vissuto del paziente che può essere conosciuto solo attraverso un dialogo continuo. E se oggi la medicina offre opportunità di guarigione dal cancro un tempo impensabili, è vero però che non si deve mai dimenticare il supporto psicologico che ogni medico dovrebbe dare al paziente e alla sua famiglia, travolti a livello fisico ed emotivo da una diagnosi che spaventa e disorienta e bisognosi di un confronto costante, di un ascolto partecipe per poter meglio affrontare un percorso a volte lungo e faticoso nel migliore dei modi. Perché la qualità di vita passa attraverso le cure migliori sicuramente, ma passa anche attraverso la capacità di ridurre al minimo gli effetti collaterali delle chemioterapie, passa anche attraverso la capacità di informare con chiarezza e con pazienza chi deve affrontare chirurgie o terapie impegnative. Passa anche attraverso il rapporto di fiducia medico-paziente che si può instaurare solo laddove ci sia l'ascolto partecipe e disponibilità ad accogliere. E guarire non solo il dolore fisico, ma anche il disagio psicologico e sociale che il cancro ancora comporta. Ascoltiamo ora i protagonisti dell'incontro. Nella nostra facoltà, non solo perché da alcuni anni è insieme alla facoltà di psicologia, ma già da prima con la dottoressa Anna Costantini avevamo attivato un master di psico-oncologia e comunicazione con il paziente che teniamo insieme all'MD Anderson di Houston, con il professor Walter Bale, proprio per educare, insegnare ai medici una diversa modalità di comunicare con i propri pazienti. Un altro aspetto fondamentale è l'errore in cui tutti inevitabilmente cadiamo, se non ci occupiamo specificamente di questa tematica, quando pensiamo che comunicare sia un'arte innata. Non è vero che è innata, è una disciplina che va imparata con sacrificio, con impegno, con un tempo da dedicare a questo percorso ed ecco perché nell'ambito della scuola di medicina, ma anche nell'ambito della scuola di specializzazione abbiamo inserito molte lezioni di comunicazione e di rapporto medico-paziente proprio perché vogliamo che i nostri studenti escano di qui con una capacità di stringere quell'alleanza a cui lei si riferiva prima. Se mi permette solo un ultimo punto riguarda tutto quello che è la comunicazione non verbale. Teniamo presente che circa il 70% di quello che percepiscono i pazienti riguarda la capacità o meno di creare empatia, la capacità o meno di creare un collegamento con il medico, vedere il medico distante, il medico che non ti guarda negli occhi, il medico che sta lavorando al computer mentre ti dice cose tremende sul tuo futuro che ti creano un panico assurdo, che ti creano paura, non è ovviamente, non dico un modo corretto ma è il modo più sbagliato di affrontare questo tipo di comunicazione. Non solo per evitare questi errori ma proprio per insegnare ai medici come continuare questo percorso sono nate queste iniziative come Oncostoris. Lei deve calcolare che il numero di necessità e di bisogni non riconosciuti dal medico è altissimo, può arrivare addirittura in alcuni studi al 70-80% e non mi stupisco di questo, il numero dei bisogni non riconosciuti dal medico e quindi non corrisposti e quindi per i quali il medico non ha trovato una risposta non perché è incapace ma perché non si era nemmeno posto il problema, rappresentano l'elemento più importante nel determinare una cattiva qualità della vita dei pazienti oncologici. E allora un infermiere che intercetta questi bisogni, che li capisce, che li comprende, che li condivide ovviamente con l'equip medica è un supporto straordinario per una gestione migliore di quello che è il rapporto tra medico-paziente e direi infermiere. Io amo ricordare un breve, fare una considerazione, i medici condotti di una volta avevano pochissime risorse a disposizione ma avevano un grande rapporto con i loro assistiti, per cui si creava un rapporto di grande intimità, di grande conforto. Poi è arrivata la tecnologia, la tecnologia ci ha portato delle metodiche assolutamente fondamentali e che oggi non potremmo assolutamente di cui farà meno dalla diagnostica, che ne so, TAC, PET, nonché ci ha portato anche delle nozioni di biologia molecolare che stanno contribuendo e che probabilmente sono il futuro della cura dei tumori. Cose che chiaramente non possono essere fatte senza un supporto tecnologico che noi abbiamo, ma il rischio o il danno che queste tecnologie hanno prodotto è stato quello di spostare l'attenzione dal paziente, dall'uomo alla macchina. Nel senso che oggi noi spesso, come dice Terzani in uno delle sue iscritti, lo citiamo, dice l'esperto di turno veniva a visitarmi o meglio a visitare il mio fegato o meglio a visitare l'immagine del mio fegato che appariva su un monitor. Ecco, questa è la spersonalizzazione, come si definisce la malattia senza malato, cioè come se noi prendessimo la malattia, buttiamo da parte il corpo della persona, che viceversa è il protagonista, e curiamo fuori del corpo un qualche cosa senza curarci di chi è la persona. Questo non è medicina, questo è tecnologismo, il recupero va fatto recuperando la relazione del paziente, la sfida del terzo millennio. Possiamo dire che oggi come oggi riusciamo a salvare più del 50% delle pazienti affette da tumore donna che sarebbero destinate a ricadere, ma abbiamo trascurato la relazione col malato. Quindi oggi è stata una testimonianza di come viceversa bisogna recuperare il rapporto col malato perché la gestione degli eventi avversi e delle complicanze passa attraverso la relazione col malato. Dirò di più, se noi oggi curiamo le persone perché possiamo curarle, dobbiamo preoccuparci anche di come sarà il futuro di queste persone che oggi guariscono. Le proposte e le esperienze che sono state riportate dalle signore presenti in sala testimoniano come a volte può più un supporto familiare, sociale, di associazioni che non una semplice pillolina data in solitudine chiusa in una casa dove una persona vive da sola. Il momento in cui si affronta il primo incontro con la paziente è il momento topico dove la paziente o fugge o rimane perché devi essere, devi avere innanzitutto quel feeling particolare che o c'è o non c'è. La famosa alleanza terapeutica. L'alleanza terapeutica che si affronta solamente ed esiste spontaneamente nel momento del primo incontro. E prevalentemente il paziente oncologico è un paziente complesso perché il primo giorno che noi vediamo un paziente oncologico. Nel nostro ambulatorio noi diamo una diagnosi, noi diamo una costruzione anche di una diagnosi perché molto spesso non abbiamo la diagnosi definitiva, una prognosi in 20 minuti e mezz'ora e nonché tutto l'affrontare un percorso terapeutico con gli effetti collaterali. Noi ci stiamo sempre più spostando verso la terapia biologica. I nostri figli vedranno i loro amici curarsi di cancro con terapie biologiche e questo ha portato a amplificare maggiormente quello che è non solo la qualità di vita ma un occhio particolare sul trattamento per la qualità di vita che va da un semplice antiemetico a quello che è un supporto psicologico. Non dimentichiamo che la qualità di vita vede una serie di figure professionali che non è solamente l'oncologo, è l'oncologo, è il fisioterapista, è lo psicologo, è il terapista del dolore e quindi vede una serie di figure intorno alla paziente e alla sua qualità di vita. Quindi sicuramente è un percorso parallelo, pluriparallelo. L'oncologo è un medico che sicuramente deve pensare alla parte organica, non può abbandonare la parte psicologica anche se questo evento lo dimostra perché è un evento che vede più figure professionali intorno al paziente. La parte psicologica del paziente oncologico aiuta e ve lo posso assicurare che aiuta non solo l'oncologo, aiuta il percorso terapeutico del paziente. La qualità della vita dopo la malattia ha un suo valore, ha un suo valore anche durante la malattia. In genere si pensa di curare la persona curando il pezzo, in realtà noi abbiamo una visione molto olistica della malattia e quindi la persona ha un suo vissuto, una sua sensibilità diversa da una dall'altra, quindi ha un suo mondo. Pertanto non è solo il pezzo che va curato, ma è un po' tutto l'insieme. Quindi lo stare bene della persona complessivamente sicuramente aiuta a guarire prima e a guarire meglio. Quindi il nostro progetto di Onco Movies, Onco Stories è proprio indirizzato a comunicare alle donne che si trovano a dover affrontare una malattia che è importante che parlino con il proprio medico, è importante che raccontino quali sono le loro sofferenze che magari non è dovuto solo all'intervento in sé, ma magari a tutto quello che ne comporta, le cure, le terapie, quindi la nausea, il vomito, la perdita dei capelli, tutto quello che la malattia purtroppo oltre che al pezzo da sanare coinvolge anche tutto un emisfero che può essere anche quello emotivo, psicologico, personale, familiare. Gli effetti collaterali si possono curare, c'è una soluzione anche per quello, c'è una soluzione per tutto nella malattia, non c'è la soluzione solo della malattia in sé, ma c'è anche la soluzione di tutti gli effetti collaterali che ruotano attorno alla malattia, siano essi psicologici che fisiologici. Come diciamo sempre noi all'Associazione Italiana Malati di Cancro, l'informazione è la prima medicina per il malato oncologico e quindi oggi il malato che tra l'altro spesso si presenta dopo il primo impatto della diagnosi, si comincia a presentare oggi al malato in maniera più preparata, in maniera più consapevole perché ovviamente si forma e si cerca di trovare più informazioni possibili ovunque, purtroppo spesso anche magari informazioni non precisissime e non corrette, non validate scientificamente, ecco perché è fondamentale invece l'informazione come momento fondamentale dell'iter terapeutico perché il malato una volta che è consapevole di ciò a cui va incontro, degli effetti collaterali eventuali, dei trattamenti, di tutto ciò che riguarda la qualità di vita che può ovviamente andare a modificarsi nel tempo, una volta che il paziente è debitamente formato di questo diventa sicuramente più consapevole e quindi aderisce meglio al trattamento terapeutico, più partecipe e quindi insomma affronta sicuramente la malattia con grinta maggiore, con consapevolezza maggiore e sicuramente aiuta anche il medico in questo rapporto medico-paziente. Arrivando il paziente più preparato all'incontro con il medico sicuramente ha anche più ben chiaro di fronte a sé quali possono essere poi le problematiche che nella vita incontra, quindi le problematiche nutrizionali, le problematiche sessuali, le problematiche psicologiche, quindi è fondamentale che il malato non abbia paura ovviamente a esternare anche questi che sono assolutamente parte integrante del viaggio con la malattia e della battaglia contro la malattia.